Salve ragazzi e bentornati su quei due su server trash C'è di buono, c'è di buono Che voglio farmi una leggera E hanno cambiato tutta l'impostazione qua E' un macello Mi piace un sacco Disinesco Sigma, disinesco... No, andiamo su Dust2 Una leggera su Dust2 Guarda è tutto nuovo E' tutto tremendamente diverso Da... come lo ricordavo E... spero che sia più veloce Vediamo un po' Di solito trovo una partita in 18 secondi 17 addirittura E se più o meno ci siamo Diciamo che il caricamento è rimasto molto simile Ok, Dust2 Da quanto tempo non giocavo su Dust2 Adesso la musica si dovrebbe abbassare Per permettermi di entrare Nell'atmosfera Desertica, se vogliamo Di questo Dust2 Sono veramente Veramente eccitato Una leggera che è da tanto che non rifacevo Su una mappa che è da tanto che non Non vedevo Ci sono delle novità su questa mappa Che non conosco benissimo Perché io vengo dal Counter Strike Source Non sono un esperto Perlomeno lo ero sul Counter Strike Source Adesso sono Pippa E dove vado No, mi piace iniziare con Loro Dust2 No, era Dust1 Non mi ricordo neanche il numero delle mappe Quindi figuriamoci Ehi, sì 9 colpi Ci faccio uccidere uno con 9 colpi Vediamo un po' 9 colpi 9 colpi Riscaldamento Ancora 50 secondi Vabbè, che si è Dust2 Giustamente Stumulo Oh, oh Ultimo colpo One shot One kill Mamma mia Mamma mia Mamma mia Della sid Quella addirittura Col fucile da cecchino Non è riuscito a stegarmi Quando uno Si dice pro Devo ancora regolare Il movimento del Ehi, ma quanti ne siamo? È una leggera Un po' troppa gente Però Guarda 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 Vieni qua Vieni qua Vieni qua Dai, si inizia Faccio eco Finito il riscaldamento In 3, 2 Ok Grazie Te Ma quanti ne siamo? Ma no, ma che zia ne siamo? Siamo in 10 contro 10 Sarà un macello Bene Non so quanto durino Le leggere Di solito non ne faccio Quindi Oh, guardalo Andiamo Scusa che ti blocco Ma se ti devi togliere Dal pisello 10 persone È veramente più facile Beccare gente qui Oh, la miseria Oh, sono tutti qua Sono tutti qua Merda Come li faccio a chiamare Eh Devo fare il giro Orcaccia La miseria Ok Ho già preso un defuse Allora Qua c'è Il problema Ah, scusami Quanti ce ne stanno? 5 O giù di lì Non ho manco una bomba Pensavo di averla presa Per terra Preso Preso Bella Attenzione Ce ne mancano due Dove saranno? La bomba Oh, c'è gente qui Deve alzare il volume Oh, c'è la bomba Bella 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 Uh, questa non mi piace Un cavolo La di gol No Ha frusciato un cortel Un fucile Riprendiamo Ok 20 colpi Non mi è piaciuta questa prima partita Vi dico la sincera verità Se qua passano in tanti Utilizzeranno granate a rotta di collo Un'altra cosa che non mi piace assolutamente È che nel menu Ci sia una sensibilità E all'interno del gioco Ce ne sia completamente un altro opposta Io sto proteggendo qui ma Dove sono le persone? Ui, ui, ui C'è qualcuno lì sotto Ah, ah, ah Va giù da puttanga Ah, hanno cambiato anche questa cosa L'hanno messa proprio come Fosse una telecamera Ah, no E invece Da fuori sì Forse è interno No Ah, no Quella di prima è Chi mi ha ucciso Perfetto Ma purtroppo i miei compagni Non hanno fatto un Un buon lavoro A sto giro Però insomma I terroristi sono Veramente scarsi Come vedete Il ping è stato spostato Prima era a destra Ma adesso è a sinistra Quanto ping ho? 60 Bene Qua dentro è veramente lento Mi piacerebbe prendere una WP Ma Eh, qualcuno che prova Non ho preso niente Sto cercando di fare Comunque sia eco Vediamo un attimo Se passa qualcuno Non passa nessuno Qui, questo è uno spot Che io non ho mai utilizzato E che secondo me Non è male Eh, madonna Sono a famacello Questi qua C'è un problema Con il mouse Non mi piace La sensibilità Se ne mancano tre Saranno questi tre Madonna che mi sono cagato Sotto Non è che è rimasto qualcuno In base Ma vaffanciufolo C'è qualche Porca Ma quanto sono In deficienti Ma vaffanculo Quel deficiente Che mi butta Le flash in faccia Eh Dai Sei un deficiente Però Eh Ma Mi ha fatto Buttare via Niente Non posso Ah vaffanculo Faccio eco Tanto qua qualcuno Ma sono ultimo Ma davvero Ma stiamo scherzando Madonna Chi è che è Sta con la WP Fermo Ma perché Uccidi Perché Uccidi I nostri Deficiente Porca Miseria Ma Ma questo È un deficiente Attenzione Se può uscire qualcuno Da qui Abbastanza sicuro Dove Dove Dall'altra parte Proprio Che palle Holy Shies Che mi è andata Male Male Vabbè Oh Finalmente Prendo un po' Di fucile AWP Che avevo Proprio voglia Pistola Granata Questo fatto Che sia lento Qui È veramente Fastidioso Per quanto Mi riguarda Non so Chi ci sia Di AWP Orca Miseria Però Iniziare così Non è la mia Non è la massima Aspirazione Di vita Vediamo un attimino Intanto lo sapete Per uscire Qualcuno Madonna Sei stato bravo Però Di qua Io sono Svantaggiato Ce n'è rimasto Uno Bello Bello Ok Mi riprendo Una granata Omogeno E flashbang Vediamo se qualcuno Esce da qua Tra Tre Due No Oh C'è qualcuno Vuole un fucile Da cecchino Qui Vediamo se Esce qualcuno Non possono uscire Non posso uscire Manco loro Ho visto E' uno Dove sta la gente Io continuo a essere Ultimo Dove Eh puttana Miseria Ho sbagliato Pure Che mi ha dato La WP Dai Mi piace Avere la WP A portata di mano Oh oh Vieni 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 Figli di puttana Eh vaffan Mocca Solida Che partita Di merda Sto facendo Mamma Mia Oddio Il primo Ha 12 Uccisioni Cioè Non è Però Mamma Mia Possibile Che io Non abbia Fatto Manco Un assist Eh bravo Pia di Il mio WP Va Mi sento Proprio Legato A sto Giro La WP Attenzione Attenzione C'hai a destra Bellissima Tattica E' unico Ah ok Ah ok Non avevo visto Che sta Finendo Bene Veramente Bene Bene Va bene Facciamo un giro Di mitra Anche perché MP7 UMP E due Granari Dai Flashbang Te Piate di Questo Stronzi Vediamo se riesco a far danno a qualcuno Aia Esci fuori Esci Niente Stiamo facendo il giro Dai C'è uno Lassopra Col fucile Da cecchino Che non vedeva l'ora di fraggare E non c'è nessuno Dove sono tutti C'è nessuno Zio No Ridammi Il mio fucile Granata Vai Ok Ah Perché stai sparando un amico 3 2 Andiamo lì su Sicuramente se passa qualcuno Stanno tutti andando di là allora L'idea è proprio questa Dai ragazzi Andiamo noi a sfondare Oh Da destra No però Dai Figlio di Baldrach Ha avuto tutto il tempo di mirarmi Niente E l'ha ammazzato anche questo C'ha 6 Oh Veramente C'ha 6 Ma il primo Babba Ica La Marcha Misera Che bella 15 Uccisioni Bam Attenzione No Buono Però Però I terroristi Dalla loro Hanno che Sono scarsi Dovremmo bilanciarci Fucile Vai AWP Dai È l'ultimo round Voglio provare a fare una cosa in velocità Sempre che non mi rascino in faccia Ahè Emo E che cazzo sta una Sp- Ahè E uno Dove sono gli altri E poi c'ho L'audio a manetta Oh Va bene È andata bene Vincono Ah Non ho messo Questa cosa A 3D Abbiamo vinto noi Quindi Leggera e mezzo Vabbè Io ho fatto una partita di merda Ma non mi serviva per riscaldarmi Invece saranno Le persone veramente Brave Ci vediamo alla prossima E magari cambiamo Mappa Dai Non facciamo la dust Ciao ciao